I risultati del contrasto che ho voluto nei confronti del commercio abusivo sia sull'Arenile che nelle altre prospicenze, quindi lungomare monumentale e soprattutto via Nazario Sauro, il commercio abusivo che lo ricordo è un fenomeno odioso che va a penalizzare sia i commercianti che invece pagano le tasse e rispettano le regole, che un altro fenomeno incredibile che è quello della contraffazione delle merci che incide soprattutto rispetto al Made in Italy di cui noi siamo famosi e quei marchi che vengono fortemente penalizzati, dicevo il contrasto che già negli anni passati ho voluto ed è stato rafforzato quest'anno, sta dando dei grandi risultati perché grazie allo sforzo che ho chiesto al comando della Polizia Municipale, molti sequestri si sono stati fatti, molte sanzioni sono state elevate ma soprattutto sia sulla Renile che negli ambiti della stazione ferroviaria sono stati bloccati coloro che frequentano e esercitano il commercio abusivo e con il risultato che sulla Renile non si vedono più questi commercianti e già questo è un risultato che io saluto con grande favore ma che deve essere solo il punto di partenza. Sanzioni pesanti, devono sapere i commercianti che Giulianova non può essere il luogo dove loro esercitano e continueremo con questa azione incisiva e a favore di chi invece le regole le rispetta.